miei cari attenzione bene non mi rivolgo a voi del piccolo resto cattolico che state soffrendo per me e con me mi rivolgo a tutti quelli e non sono pochi che mi seguono come rode ascoltava volentieri giovanni battista salvo poi decollarlo ecco ci sono tanti come rode che volentieri mi ascoltano ma attenzione a star lì ad ascoltare ad ascoltare ad ascoltare senza mai decidersi perché l'auspicio di bergoglio deve farvi spaventare ma che dice forse ci vedremo in inferno significa tutti quelli che vi state ostinando a stare con bergoglio non appartenete più alla chiesa cattolica appartenete alla falsa chiesa appartenete al corpo mistico dell'anticristo appartenete a satana